Scusa di dire il suo nome, parla la nostra lingua e il soggetto è a suo agio una donna una donna che era una moglie e una madre e che ora è un idola credo che credo che voi diciate ad ella alla braccia ma io dico che nel nostro mondo c'è solo un inferno con dentro il diavolo la democrazia accade la storia accade accade sono le 18.37 il colloquio continua e cosa vuoi? non giocare con me secondo chi? non usare quella roba con me io sono trattenuta contro tutti gli accogli internazionali ma il cuore il cuore il cuore è tanto più grande il cuore umano il cuore umano che più di ogni questo dovrebbe essere segnalato come illegale è per amore è per amore la scelta è bella e mania è bella il cuore il cuore è la scelta solità e è il cuore tutto Grazie.